E' fin troppo semplice dire che l'economia aziendale studia l'azienda. L'economia aziendale è una scienza sociale che deve indagare come per l'appunto l'azienda interagisce con altri attori economici nell'ambiente a che lo circonda. E' in questa interazione così rilevante che occorre fornire gli strumenti fondamentali affinché l'azienda per l'appunto possa perdurare nel tempo. La continuità aziendale è una caratteristica fondamentale che implica una capacità di creare valore, implica che questa non debba semplicemente nascere per poi finire entro un breve termine, significa invece fare in modo che questa possa nel tempo, in un tempo indefinito, possibilmente anche indeterminato, generare valore. L'economia aziendale ha origini molto molto antiche, questo è un libro di frate Luca Pacioli, era una seconda edizione, quella del 1509 rispetto alla sua originale del 1494, ma c'è una certa emozione nel stare in presenza di questo libro perché è il primo volume in cui per la prima volta la contabilità viene formalizzata nel modo con cui ancora oggi viene tenuta nell'intero mondo. L'economia aziendale moderna ha origine proprio da questo libro, 1937, ad opera di Gino Zappa, è il padre fondatore di questa disciplina nel modo con cui ancora oggi si conosce e si studia, è colui che ha definito l'azienda, ha impostato la modalità di rilevazione e fornisce gli strumenti fondamentali, chiaramente poi si sono sviluppati, con cui osservare l'andamento economico dell'azienda. Se volete studiare le condizioni di sopravvivenza dell'azienda, se volete imparare gli strumenti che l'azienda deve impiegare affinché possa garantire questa continuità temporale, vi invito tutti a iscrivervi al mio corso di economia aziendale.